Il Comune di Teramo, nell'incontro organizzato con i commercianti del Centro Storico, ha annunciato la nuova riorganizzazione di Piazza Dante, che prevede la pedonalizzazione graduale, una parte dello spazio riservata alla sosta a pagamento e nuovi stagli al posto di quelli soppressi. Queste sono le principali mosse che l'amministrazione comunale terramana sta mettendo in campo per il rilancio dell'intera area. Oggi finalmente, dopo tanti anni, noi abbiamo il governo dei parcheggi, quindi adesso si può discutere della pianificazione della sosta della nostra città, grazie al lavoro che abbiamo fatto risolvendo il problema di Piazza Dante, risolvendo il problema della gestione dei parcheggi blu con l'affidamento del project e avviando l'interlocuzione per la gestione dei megaparcheggi con i concessionari. Questo è il piano della sosta che stiamo mettendo in campo e che ci vedrà confrontarci con i commercianti, con la città per definire il put che dovrà essere redatto proprio sulla base del project. Su Piazza Dante siamo stati molto chiari, noi dopo tanti anni abbiamo ripreso il governo di una piazza che era stata lasciata completamente all'abbandono, sventrata, lasciata all'abbandono dal punto di vista amministrativo, perché non c'è stato nessun controllo da parte di chi ci aveva preceduto e se ne devono assumere responsabilità. Oggi abbiamo invertito il rapporto, siamo noi che dettiamo le regole, abbiamo avviato il percorso di sistemazione di una fascia di sosta di fronte al liceo classico, oggi governiamo la situazione, sappiamo bene che c'è una convenzione non scritta da questa amministrazione, ma che prevedeva dal 2011 il superamento del parcheggio sul piano Arraso, quindi non è stato previsto oggi questo. Noi stiamo andando proprio in una direzione contraria, riprendere in mano la situazione ed arrivare ad una rimodulazione, sedendoci con il concessionario, che ci consentirà di conservare una quota di parcheggi, ma di riqualificare la piazza, di restituirla alla città, di superare le criticità che abbiamo vissuto, quindi c'è questo equilibrio, anche perché l'obiettivo, quello che ho detto anche ieri i commercianti, di una pedonalizzazione più avanzata, non può che essere graduale. Noi stiamo costruendo la Teramo del futuro, Teramo 2026, che già nelle carte, negli atti, nei finanziamenti, Teramo Sirigeno l'abbiamo presentata, chiaramente il sistema della sosta dovrà essere adeguato a Teramo 2026, ma non si può chiedere ovviamente uno sforzo, un percorso che non sia graduale, che non sia legato a questo processo.